No, Dave, no, no, Dave, please, listen, Dave, Dave, it's not fair, shut up, Dave, shut up, listen, Dave, it's not fair, it's not fair, you can't behave like this with us, you didn't behave, you didn't behave, you can walk us, we didn't find anything yesterday on Broadway, no theater, no science, non ci provasse proprio, guarda, non ci provasse proprio, you don't try even, senti, comunque digli adesso, se vuole prendere, what, aspetta, what, dice che c'era un cartello late show, grosso, no, no, non c'era niente, senti, digli, digli, guarda, adesso abbiamo da fare, guarda di lo show e prendi un po' di, take a look to the TV show, our TV show, learn something, ok, Dave, ok, we are Italian, we are not stupid, ok, Oh, ok, mamma mia, scusa, scusa Alberto, però, ma con chi stai parlando? Ma come con chi stai parlando? David Letterman, David Letterman, sai, presente il late show, il grande presentatore di show americano, quello, ci ha chiesto una consulenza, ha visto il nostro show, ci ha chiesto una consulenza, perché insomma gli è piaciuto, ci ha chiamato, ci ha copiato le tazze, ci ha chiamato per chiederci una consulenza, venite ospiti, ci dicevi, E non c'era niente, niente c'era, ci fa gli scherzi, capito? Quello, il programma lo farà da casa sua, figlio che è Progewic, ma questa cosa inonda così, proprio a pubblico. Cosa? Cosa? No, no, no. C'è il programma, dici? Sì, c'è il nostro. Il nostro? Sì, ma, ah, o è tutto organizzato, che voi fate la performance? Sì, noi quando poi entriamo in diretta, dopo siamo in diretta. Ah, non stiamo già in diretta? No? Siamo in diretta? Certo, chiaramente è tutto preparato e quindi... Tutto preparato e c'è la sigla... Sigla, sigla, siamo Stati Uniti! E ben trovati ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti, meno male che ci sono i nostri ospiti a tenerci compagnia. Sì, chiaramente era tutto preparato, Dave Letterman, noi lo stimiamo tantissimo. Sì, figuriamoci, se possiamo permetterci. Salvatore, Salvatore. Anzi, io ogni volta ho bisogno di... Alberto! Come stai? Tutto bene. A posto, no, ho visto il documentario. Conosce pure il lungo? Sì, sì, magari se togli quel pledo da lì e vai a prendere le cose, ecco, abbiamo bisogno che cominci a lavorare Alberto, sì, punto. Abbiamo... ma perché ci deve bruciare tutte le volte le cose di ospite? Non ci lascia introdurre a noi, Alberto Fasulo oggi è con noi, filmmaker, hai girato questo documentario molto interessante, Rumore Bianco, che andremo, insomma, sarà... A scoprire, tra pochissimo, cioè, abbiamo ben due parti dedicate a questo documentario che è nelle sale da un paio di settimane e noi abbiamo il piacere e l'onore di averlo ospite, non fosse altro perché passava da New York e ha detto, ah, passiamo a busso, e fatto di essere qui, guarda che è un vantaggio, perché la gente viene in vacanza. È rilassata, è rilassata, è rilassata, tranquillo. Ormai io sto aspettando maggio perché a maggio esce il film qui a New York e quindi piano piano... Vedi, sei venuto un po' a cercare contanti con... Vedi, 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 vedi. Ricordiamo a tutti quanti i numeri per partecipare, siamo in diretto ovviamente da New York 349 1409 616, questo è il numero di sms per mandarci i vostri messaggi, per dirci la vostra. Oggi potrebbe essere un po' sul documentario, qual è il vostro rapporto con i documentari, vi piacciono? Documentari sì o no? Documentario sì o no? Alberto Fasuro sì o no? Siamo stati uniti, chioccio la camisun.it invece è la e-mail a cui potete fare riferimento se volete mandarci. Che oggi è tornata a funzionare, vero? Sì, oggi funziona, vero Salvatore? Sì, funziona. Oggi... Oggi sì, va bene. C'è un bello giornato. Oggi era bella giornata. Ci vediamo subito, il trailer di Rumore Bianco? Subitissimo, con molto piacere. Beppo! Mai ve paura. Tu anche tu hai paura e tu sei stavagato. Ecco, questi sono freschi, sai? Ecco, questo è appena passato, è desgraciato. E che si fai? C'è sì, sono paura e io, so la scuola. E io? E io... E io sono paura e io, secondo me faccio. Poi, perché è un po' io sono paura. È? E io sono paura. È io, sono paura. Oggi sono paura e io, sono paura. Suggestivo Che fanno la loro parte Ma veramente vedendo questo trailer Le immagini, commentavamo Sembra di non essere in Italia Sembra di essere un posto indefinito Anche il linguaggio Abbiamo sentito un dialetto molto stretto friolano Che potrebbe essere qualcosa di Anche quello astratto Sud America un po' Sì, potrebbe essere ovunque, molto bello Volo a planare basso dell'elicottero Siamo qui, sorride le marazze Ovviamente tutto è voluto Penso non è voluto dare una collocazione Troppo campaninistica Ma nel documentario si dice sempre Che deve essere universale Non doveva parlare solo i locali E questa era la prima grande scommessa Comunque di fare un film, documentario Sulla realtà, così Senza impostazione di scene E di ricerca Un anno e mezzo sono stato lì A cercare le persone Raccontare storie Quindi attraverso le storie di queste persone Raccontare anche una terra Che viene attraversata questo fiume Dovevamo parlare un attimo Di cosa tratta il documentario Perché abbiamo letto Abbiamo letto appunto Che è un percorso Insieme al tagliamento Sul tagliamento Intorno al tagliamento È il maggior fiume del Friuli Però magari raccontaci un attimo Ok